Antiche volte a vela in mattoni a vista, botti di varie dimensioni dove maturano e si affinano i grandi vini prodotti dalla tenuta Castello di Razzano, vanto della famiglia Olearo. Angoli dedicati alla storia della vite e del vino. Sarà Augusto, enologo e grande appassionato del suo lavoro di esperto vignaiolo, ad accompagnarvi in visita a questo ambiente di grande e coreografica suggestione, dove la temperatura è costante tutto l'anno, perfetta per l'evoluzione dei vini sia in botte che in bottiglia. Ogni angolo delle cantine evocherà un racconto di lavoro lungo e difficile per ottenere la massima qualità dei vini, nati dagli storici vitigni autoctoni del territorio come Barbera e Grignolino, ma anche da vitigni internazionali impiantati con notevoli risultati qualitativi in zona. Nella cantina non manca un bellissimo inferno, ambiente ancora più particolare, dove in nicchie scavate nel tuffo del terreno collinare riposano coricate, a riparo dal calore e dalla luce, le bottiglie delle grandi e più longevi riserve. Grazie per la visione!